Oh, giovani amici di Facebook, torniamo a parlare di Fai da te, terza puntata, abbiamo parlato della cassetta, abbiamo parlato di un po' di attrezzi e chiavi in particolare, oggi parliamo di un trapano, in particolare un trapano avvitatore di Makita, che è una delle marche più prestigiose, specializzate proprio in trapane, del motivo per cui ho scelto questo in particolare. Come al solito cerco di puntare un po' alla qualità guardando anche il portafoglio, questo costa veramente poco perché ho appena scoperto, letteralmente appena scoperto che è uscito dal catalogo ma è ancora disponibile su Amazon, ha un prezzo super vantaggioso perché costa attorno ai 50€, nonostante il prezzo di destino sia molto più alto e ve lo faccio vedere è veramente super figo e ha un casino di accessori, andiamo a spacchettarlo. Allora come vedete all'interno della scatola c'era semplicemente questa valigetta molto bella in verde Makita, veramente figa, dentro contiene il trapano e tutti quanti gli accessori, oltre 80 accessori, c'è anche questo manualone infinito di cui non vedo alcuna utilità se non la solita cartaccia, non lo guardo neanche. Andiamo ad aprire la cassetta e vediamo cosa c'è dentro. Allora nella parte superiore ci sono una infinità di punte, ci sono veramente tutte le punte possibili e immaginabili, tra l'altro la cosa figa di queste punte è che sono a dimensioni standard per cui le potete usare anche con altri trapani o con altri avvitatori manuali, poi il tutto si apre, si può aprire ulteriormente mollando qui, vedete che Al fine si può spalmare tutto quanto in questa maniera, dentro ci sono tutti quanti gli accessori e c'è anche il trapano vero e proprio. Il trapano è di quello che può essere utilizzato sia in versione diciamo cacciavite, tutto dritto, sia in versione ripiegata, in modo tale che assomigli a un trapano vero e proprio. Non è piccolissimo però è veramente costruito molto bene, ha una batteria da 4,8 volt al nickel cadmio, si ricarica in un paio d'ore e ha un'autonomia di altrettante ore, 3-4 ore credo, una cosa del genere. Ha anche una luce a led qui superiore, vedete, che si può accendere e spegnere ed è molto comoda chiaramente quando lo si utilizza magari in spazi ristretti o poco illuminati per andare a becchiare la vite giusta. Ha due tasti molto semplicemente da una parte avvita e dall'altra parte svita, o il contrario, di qua svita e di qua avvita e fondamentalmente nient'altro. c'è questo tasto superiore per la luce led, le punte sono inserite e si collegano magneticamente a una sola velocità, purtroppo non ha la frizione come hanno magari altri trapani più professionali, ma visto il costo e la dotazione non mi lamento di certo, vi faccio anche vedere tutte le punte che vengono date insieme, è veramente incredibile. Allora qui vedete il trapano vero e proprio che sta nel suo alloggiamento, qui ci sono diciamo delle punte classiche sia a croce che a taglio e qui invece partono tutte le punte speciali, sia a torx che a brugola, che di tipo speciale, ce ne sono svariate a taglio, qui vedete che ogni scompartimento può essere alzato in questa maniera qua, viene su, quindi qui tutte quelle a croce, dalle più piccole alle più grandi, tutte quelle a taglio, torx, brugola, stranissime, anche qui ci sono tutte quante quelle torx, addirittura ci sono le punte per le viti esagonali, qui vedete, sono tantissime anche queste, c'è anche una prolunga che può essere utilizzata con tutte le altre punte per arrivare in punti più diciamo profondi, qui vedete l'alloggiamento del trasformatore, il trapano funziona anche alimentato, quindi se la batteria si scarica potete semplicemente collegarlo alla luce e continuare ad utilizzarlo, e che dire, veramente tantissimi accessori, un super trapano, le dimensioni forse potrebbero essere un po' più ridotte, però diciamo che questo permette una batteria più grande, quindi un'autonomia maggiore, e in più il trapano in sé è veramente costruito alla grande in puro stile makita, il tutto è in verde makita, chiaramente, è nero, molto semplice da utilizzare, dotazione incredibile, oltre 80 punte, fornite di tutti i possibili utilizzi, è uscito, ripeto, di produzione, purtroppo, però sfruttate l'occasione, perché su Amazon è veramente disponibile a un prezzo incredibile, cioè attorno i 50 euro, cioè qua meno di un trapano equivalente senza accessori, quindi veramente molto figa sta cosa, e in più arriva con la sua valigetta, che contiene tutto quanto, ed è davvero comoda. Se vi è piaciuto questo video e gli altri miei unboxing, fate like, fate share, e ci vediamo al prossimo video di Incauto Unboxing. Ciao ragazzi!